Un'associazione segreta che avrebbe contato tra i propri membri giudici, politici, imprenditori, professionisti, uomini dell'andrangheta e persino un sacerdote. E l'accusa che i PM Stefano Musolino, Giuseppe Lombardo, Rosario Ferracane e Luca Miceli muovono il gruppo guidato dall'ex parlamentare Paolo Romeo. Una massoneria occulta, la regia del potere economico e politico sul territorio di cui avrebbero fatto parte, tra gli altri, anche l'ex magistrato Giuseppe Tuccio, l'ex assessore comunale ai trasporti a Medeo Canale e l'attuale parroco di San Luca Giuseppe Strangio. Per loro e altre sette persone l'accusa di aver violato la legge Anselmi, quella varata nel 1982, subito dopo lo scandalo della P2 di Licio Gelli. Un'organizzazione segreta che si sarebbe celata dietro associazioni palesi, come il Circolo Pescatori Posidonia, e che avrebbe interferito col funzionamento della cosa pubblica regina e con la vita economica della città, con lo scopo, scrive il GIP Barbara Bennato nell'ordinanza di custodia cautelare, di agevolare i clan, e in particolare la famiglia da sempre più vicina ai colletti bianchi, i de Stefano di Archie. Francesco Creazzo per la Cineus 24